Allora, intanto cominciamo facendo i complimenti all'Atalanta che oggi ha vinto sul campo del Genoa e si è qualificato per il terzo anno consecutivo per la Champions League, quindi complimenti a loro, devo dire che è un'impresa mantenere una squadra del livello della Dea costantemente a quei livelli, quindi bravo Gasperini, bravi tutti e soprattutto bene per noi, perché lì abbiamo cominciato a fare dei ragionamenti e poi abbiamo proseguito guardando il derby d'Italia, un derby d'Italia che è stato caratterizzato indubbiamente da un sacco di episodi, un primo tempo dove la Juventus forse aveva trovato anche la sua idea tattica, e insomma non è male alla trentasettesima giornata, nel senso che aveva abbandonato quel possesso palla logorante che l'aveva accompagnata in questi mesi ed è andata molto più in verticale, contro un Inter che nel primo tempo non è che avesse poi tutta questa carica, ecco, solo Lautaro si è distinto per voglia, infatti lui che è andato a prendersi il calcio di rigore, e dopodiché insomma è successo un po' di tutto, perché il rigore di Chiellini, fischiato su Chiellini che è andato a vedere, è una situazione, devo dire, che si vede spesso in area e che probabilmente non meritava il calcio di rigore. Dopo è arrivato il gol di Quadrado alla fine del primo tempo, rigore per l'Inter, poi il 2-2, anche lì insomma qualche contestazione, non si è capito bene chi tirasse chi, in ogni caso poi dopo è arrivato il fallo di Perisic su Quadrado, boh, non l'ho guardato un po' di volte, non ho capito se ci sia stato il contatto, indubbiamente Quadrado è andato a cercarsi, in diretta non avrei mai detto che quello potesse essere calcio di rigore, in diretta, poi dopo, vabbè, è andata così. In ogni caso la Juve ha vinto, è riuscito a farlo nonostante abbia giocato una buona parte di partita, insomma una buona parte di secondo tempo, in inferiorità numerica per l'espulsione di Bentancur, e adesso però la situazione per noi sostanzialmente non cambia rispetto a quello che pensavo, cioè rispetto a quello che pensavo in molti, cioè il fatto che noi dobbiamo vincere domani e dobbiamo conquistarci la nostra Champions League. Se domani Milan vince è matematicamente in Champions League, perché siamo a pari punti con la Juve, è vero, però siamo a pari punti con la Juve, se noi vinciamo andiamo tre punti avanti, anche dovessimo perdere a Bergamo l'ultima e la Juve vincere, arriveremmo a pari punti con loro e quindi non c'è più tutto quello. La vittoria dell'Atalanta ha spazzato via tutta quella cosa della classifica a Vulsa e tutte quelle complicazioni, insomma, che immaginavo non potessero arrivare perché ci voleva una combinazione, insomma, di allineamenti astrali, ecco, molto particolari. In ogni caso il destino è nelle nostre mani, adesso vediamo un po' cosa succede, perché poi vedremo domani il Benevento cosa farà, perché gioca col Crotone, se vince il Cagliari non è ancora salvo, perché dunque, vado a memoria, ma il Benevento ha 31 punti, il Cagliari ha 36, va a 34 se vince, quindi il Cagliari resta 2 punti, poi però c'è il Toro di Mezzo, perché oggi lo Spezia si è salvato battendo il Torino, Torino in colossale caduta libera, veramente una squadra che abbiamo veramente sotterrato non solo di gol, ma anche da un punto di vista proprio della psicologia, perché oggi è andata e a parte dieci minuti, veramente è stata in balia dello Spezia. Dicevo, se domani Benevento vince, il Cagliari potrebbe avere ancora qualche preoccupazione, anche se poi, ripeto, hanno il Torino in mezzo, quindi, insomma, la situazione è all'ultima, c'è proprio Benevento-Torino o Torino-Benevento, adesso credo Torino-Benevento, anzi, sono sicuro, Torino-Benevento. Quindi la situazione è questa, noi domani dobbiamo vincere, non sarà una partita semplice, ma questo lo sapevamo già, però, ecco, a questo punto credo che onestamente faccio fatica a immaginarmi scenari diversi da un Milan che, se non altro, insomma, continua sulla scia delle ultime prestazioni, perché sarebbe veramente un delitto mortale non perdere domani in casa col Cagliari, ecco, poi dopo nella vita tutto può succedere, ma credo che, sinceramente, arrivati a questo punto, penso che nessuno abbia voglia alcunché di mettersi nelle mani dell'ultima partita in casa dell'Atalanta, che, insomma, negli ultimi anni non è che ci abbia sorriso molto come trasferta, per cui credo che ci sarà tanta voglia e tanta grinta da parte dei ragazzi, domani ne parliamo, parliamo anche della partita, insomma, così in due parole sul Cagliari. In ogni caso resta il fatto che la Juve vince e resta con una speranza, vediamo anche cosa fa il Napoli, perché poi a questo punto la Juve verrebbe guardare più il Napoli, in un certo senso, che gioca ora di pranzo, domani con la Fiorentina, e anche loro lì, insomma, sul campo di Firenze ci hanno perso un campionato, per cui staranno benché attenti. Ho letto di tante recriminazioni nei confronti dell'Inter, perché non è scesa in campo col fuoco, sinceramente mi aspettavo una prestazione comunque seria, che tutto sommato c'è stata, perché nel secondo tempo hanno cinto d'assedio la difesa della Juve, per cui non credo, insomma, che si possa rimproverare più di tanto a una squadra che ha vinto il campionato, che quindi, insomma, sappiamo che quando raggiungi il tuo obiettivo, dopo un po' la tensione si allenta. Di fronte ha avuto anche una Juve che ci ha messo tutto quello che poteva metterci, tra l'altro con due dei tre migliori giocatori che ha in rosa, che hanno fatto una grande partita, mi riferisco a Quadrado e mi riferisco a Chiellini, che hanno giocato benissimo, e quindi, vabbè, insomma, si poteva immaginare, ecco, magari, ecco, si poteva sperare in un pareggio, questo sì, giusto, perché penso che l'Inter non volesse comunque uscire sconfitta e se non ci fosse stato quell'episodio di quel rigore un po' così, un po' strano, finiva anche in parità la partita, o forse anche avrebbe vinto l'Inter l'ultimo, non lo so. Comunque, in ogni caso, adesso non dobbiamo certo prendercela con loro, perché siamo noi, padroni del nostro destino e domani dobbiamo fare il nostro dovere con il senso di responsabilità e il senso di serietà che mi aspetto, perché sarà una partita che dovremmo riuscire a vincere per tutte le ragioni che ci siamo detti da un anno a questa parte, quindi ci sentiamo domani per parlare di Milan Cagliari.